Si parla anche di Salento in tutte le sue forme, qui alla BIT di Milano edizione 2024, parliamo dei Cammini di Leuca. Don Jonathan, cosa sono i Cammini di Leuca? Il Cammini di Leuca è un progetto territoriale promosso dalla diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca con la fondazione dei Finibusterre che vuole da una parte valorizzare il patrimonio mettendo al centro tre parole, bellezza, stupore e comunità e dall'altra per noi comunità ecclesiale anche trasformare l'elemento di bellezza in strumento di evangelizzazione. Vicepresidente, in che modo i Cammini di Leuca verranno inseriti nel progetto Artwork? Noi faremo la commercializzazione dei prodotti turistici della fondazione dei Finibusterre e quindi amplieremo la nostra offerta fino a tutto il capo di Leuca e questo ci consentireà di fare una promocommercializzazione completa di tutto il Salento. Inoltre renderemo fruibili i giardini del santuario di Leuca che sono in via di ristrutturazione da parte della fondazione e del santuario e questo completerà l'offerta turistica dei Cammini di Leuca.